SABATO 7 LUGLIO Ben ritrovati con Infostudio, apriamo con la notizia di alcune demolizioni che si stanno eseguendo, anzi sono state eseguite a Crotone, di manufatti abusivi realizzati in un'area prospicente il mare in località Capocolonna. Opere ed area interessate dai lavori erano state già sequestrate dai carabinieri, ne state vedendo alcune foto nel maggio scorso, i carabinieri forestali avevano effettuato il sequestro. Vero similmente il proprietario aveva preferito demolire le opere realizzate senza alcun atto d'assenso piuttosto che attendere l'emanazione dell'ordinanza di demolizione da parte del comune. In particolare sull'area erano state eseguite colate di cemento colorato, ovvero similmente da destinare a piste da ballo, un muro di blocchi di calcestruzzo lungo 15 metri e la ristrutturazione di tre corpi di fabbrica già destinati a locali di una struttura turistica e da anni dismesse. Le opere erano state realizzate su un promontorio roccioso a circa 80 metri dalla linea della costa, un margine troppo piccolo perché non fosse sottoposto a vincolo. Si è costituito questa mattina alla stazione dei carabinieri accompagnato dal suo avvocato Davide Palermiti, il consigliere comunale di Palizzi che era ricercato da due giorni perché destinatario di una misura cautelare degli arresti domiciliari nell'ambito dell'operazione condotta dal comando provinciale dei carabinieri di Reggio Calabria che ha portato all'arresto del sindaco di Palizzi che avete visto prima, Arturo Walter Scerbo per concussione d'abuso d'ufficio. Palermiti che quando è scattata l'operazione si trovava in Francia, a Strasburgo, è accusato di peculato e falso in qualità di beneficiario di decine di mandati di pagamento per rimborsi, spese ed indennità e messi in carenza di decisioni, di determine cioè dei dirigenti del comune. Anche un altro consigliere comunale, Vincenzo Proietto, era stato coinvolto nell'inchiesta anche perché poi nelle indagini della procura erano finiti fra gli altri anche l'ex vice sindaco e fra gli indagati, che sono 21 oltre ai 4 arrestati, ci sono anche ex dipendenti ed ex amministratori del comune di Palizzi. Martedì prossimo il ministro dell'interno, Matteo Salvini, sarà in Calabria, sarà a San Ferdinando, lo aveva anche preannunciato, ed a Palmi. A Palmi visiterà un immobile confiscato alla mafia, il suo arrivo è previsto per le 11 di mattina, quest'immobile poi di Palmi dovrebbe diventare sede del commissariato di polizia. Mentre a mezzogiorno e 30 a San Ferdinando Salvini effettuerà un sopralluogo alla nuova ed alla vecchia tendopoli che ospita cittadini stranieri, in parte impiegati in lavori agricoli stagionali. Al termine delle visite poi è previsto un incontro con i giornalisti. Intanto domani deve ancora uscire il nuovo numero dell'Espresso, ma già sta facendo rumore e clamore perché le anticipazioni sono state fornite già da ieri pomeriggio e si parla dei legami di alcuni esponenti della Lega in Calabria con l'Andrangheta e naturalmente anche dell'elezione e dei numeri che la Lega ha riportato. Salvini è un parlamentare eletto nella nostra regione, dicevo, dei numeri che la Lega ha riportato sul territorio calabrese, ma più specificamente nel collegio di Rosarno. E dopo le anticipazioni del numero dell'Espresso, che ripeto sarà in edicola da domani, la Lega ha fatto sapere che querelerà il gruppo Espresso e tutti quelli che hanno associato al nome di Salvini, Andrangheta, Mafia e Camorre, che continuerà con questa linea anche nella circostanza del servizio che sarà in edicola da domani. E fra l'altro poi Salvini proprio ieri sera aveva detto che sarà in Calabria per testimoniare la vicinanza sua personale del governo e della Lega ai cittadini per bene contro ogni mafia. E' un famoso musicista, è stato un direttore d'orchestra che ha lavorato con alcuni dei complessi musicali, appunto, dei complessi orchestra, meglio ancora più noti, sia in Europa che in America. Poi però ha fatto una scelta, otto anni fa ha venduto quella che è stata la sua ultima casa, casa in muratura intendo. Adesso per casa, come dimora, ha una barca, la sua Denecia 2, a bordo della quale viaggia inseparabilmente con un violoncello che probabilmente opera di stradi vari o di qualche liutaio che appunto è stato tra i migliori della sua scuola, che viene periziato, ci ha detto anche costantemente, quindi c'è questo valore che va in saliscendi, che subisce fluttuazioni, ma non è questo il punto. Ha venduto la sua ultima casa, adesso vive su una barca, vive per sei mesi a Napoli, ormeggiato a Napoli, per sei mesi gira il Mediterraneo e l'Egeo, che sono i suoi mari preferiti, a Crotone, ormai è di casa. Ieri sera è tornato Roberto Soldatini ed ha presentato il suo ultimo libro, protagonista ne è, e questa volta non è solo un racconto, è proprio un romanzo, il protagonista è proprio la sua barca, Denecia 2. Il viaggio, il porto sicuro, il ritorno ed un nuovo libro, stavolta un romanzo, l'autobiografia di una barca, la sua Denecia 2. Roberto Soldatini, direttore d'orchestra, compositore, violoncellista, marinaio e scrittore, non per forza in quest'ordine, meglio ancora in nessun ordine, è ancora a Crotone, dove ormai è di casa. La coautrice, cioè la barca, è venuta a raccontare le tre storie di cui il suo ponte è stato testimone, ed ha incaricato di farlo il suo socio, sodale, complice, mai padrone, che nel salone della sede della Lega Navale si è esibito col suo Stradi, il violoncello di circa 304 anni che forse è stato costruito proprio da Stradivari, forse da qualcuno della sua scuola, da cui non si separe, con cui condivide vita e mare e con la soprano crotonese Teresa Cardacea. Roberto Soldatini è un personaggio straordinario. La barca a vela è da otto anni la sua casa, e dopo i sei mesi napoletani a Borgo Marinaria, all'ombra di Castel dell'Ovo, questi sono i mesi del viaggio, del vento che trasporta senza spezzare. Ieri sera, ci dice il presidente della Lega Navale di Crotone, Giovanni Pugliese, eravamo a Davoli Marina, e quando ha iniziato a suonare si è fermata tutta la spiaggia. Funziona così, la differenza fra Soldatini e gli altri, tutti noi altri, è che quella magia per quasi tutti è un attimo, mentre lui ne ha costantemente bisogno. È così che nascono questi spettacoli in cui mescola musica, testi e suggestioni, e i libri in cui racconta la sua scelta di libertà. Navigare per il Mediterraneo quasi sempre senza rotta, al massimo scegliendo i porti che abbiano vicino una stazione ferroviaria o un aeroporto perché ci sono comunque degli impegni da rispettare. Ma è l'unica concessione al logorio della vita moderna, come lo definiva la celebre pubblicità di un liquore a metà degli anni Sessanta. Mezzo secolo dopo quel logorio lo chiamiamo stress e ci divora. Vivere su una barca con un violoncello è una scelta anomala ma elastica, resiliente, un adattamento per la sopravvivenza. Per avere la possibilità di riflettere, di riprendersi il tempo, di togliersi, come dice i soldatini, quei sassi dalle tasche che appesantiscono il cammino. Cosa racconta questa barca? La barca racconta le sue origini, la sua nascita, racconta della sua famiglia, cioè del cantiere che l'ha partorita. e degli amori dei suoi proprietari. Tre coppie di armatori si sono susseguite sul ponte della barca e racconta anche degli esseri umani visti da un punto di vista obiettivo, perché visto come se fosse un extraterrestre, in qualche modo lo è, dal momento che vive in un mondo non della terra, ma un mondo acquatico e quindi può avere una visione particolare di quello che fanno gli esseri umani e poi racconta anche dei luoghi che ha visto, circa 40 miglia, miglia. Problemi, 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 tanti problemi. Andiamo avanti. Un incendio sulle cui cause sono in corso accertamente. Ha interessato la notte scorsa due auto incontrate a Vallo di Borgia. Le auto, proporremo in servizio evidentemente nella prossima edizione, una Peugeot 206 e un fuoristrada Nissan, che erano parcheggiate nelle vicinanze dell'abitazione del loro proprietario, hanno riportato pesanti danni. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco. Le foto che state vedendo del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catanzaro sono proprio riferite alle due auto che sono state incendiate. Il rogo è stato domato e si è evitato soprattutto poi che le fiamme si propagassero alle strutture vicine. Accertamenti sono stati avviati per risalire alla matrice dell'incendio, che potrebbe essere di origine dolosa al momento, però non viene esclusa alcuna ipotesi. A Palmi, in Contrada, Prato Inferiore, i carabinieri hanno scoperto una coltivazione di canapa indiana ed hanno arrestato due persone con l'accusa di averla avviata. Sono le persone nella foto. Il primo è Antonio Rosace, di 25 anni, poi vedrete Michele Santaiti, di 30. Sono stati sorpresi mentre erano intenti a curare la coltivazione, sia utilizzando attrezzi agricoli, sia ancora irrigando. I carabinieri hanno sequestrato una quarantina di piante alte più di un metro, per un peso complessivo di 50 kg. Nei pressi della piantagione è anche stata trovata, occultata tra la vegetazione, una struttura in legno che veniva utilizzata per lavorare ed essiccare le piante stesse. Questo è solo uno degli ultimi ritrovamenti di vaste piantagioni di canapa che si sono ritrovate negli ultimi tempi, sia nella piana di Gioetauro, sia ancora in provincia di Vibo, soprattutto tra Nicotera e Ioppolo. E' accusato di persecuzione nei confronti di una vicina ed è per questo che la polizia locale ha messo a termine notificato ad un uomo una nuova misura cautelare di divieto di avvicinamento alla parte offesa e dai propri familiari. Era già stato quest'uomo oggetto di un provvedimento del genere, poi recentemente attenuato dal Tribunale del Riesame di Catanzaro che aveva consentito all'uomo di rientrare nella propria casa familiare, ma dopo ulteriori indagini con le quali è stata documentata l'inosservanza delle prescrizioni imposte da quel provvedimento, c'è stata una nuova misura, è stato disposto il ripristino della misura che era già stata applicata. E' un metodo per riuscire ad avere la meglio sui disturbi dell'apprendimento in età scolare. Quello che è stato studiato è messo a punto da due giovani educatrici calabresi presentato alla cittadella regionale, presso la cittadella regionale, perché la regione nell'ambito della legge sul diritto allo studio lo condivide e lo finanzia. Lo hanno chiamato il colore dei suoni ed è un metodo, ma soprattutto uno strumento efficace ed innovativo nel campo dei disturbi dell'apprendimento. Le due autrici sono Maria Marchio e Sonia Patti, le quali presso la cittadella regionale hanno spiegato che l'obiettivo fondamentale del metodo da loro individuato è quello di educare, nel senso di portare fuori le capacità potenziali di ciascun individuo in senso creativo ed artistico, soprattutto attraverso l'uso del corpo, permettendo a chiunque di occupare il proprio spazio nel mondo. Il metodo è integrato perché tra le altre cose comprende l'intervento sulle abilità generali, linguistiche e psicofisiche. L'allunno con disagio è integrato nel gruppo della propria classe, utilizza gli stessi libri di testo seguendo gli argomenti con pari passo rispetto al resto. Una metodologia molto importante che risponde alle esigenze della legge 170 in materia di DSA e della circolare sui bisogni educativi speciali, BES. Una metodologia trasversale che permette di facilitare, migliorare il lavoro del docente perché risponde ai bisogni trasversali della classe e quindi risponde alle necessità della didattica inclusiva, senza aggravare ulteriormente sul lavoro dei docenti. Ma è anche una metodologia che permette alle persone, ai ragazzi, ai bambini uno sviluppo globale da un punto di vista cognitivo, emotivo, relazionale e comportamentale. La Regione Calabria ha riconosciuto il valore di questo metodo e lo ha finanziato nell'ambito della legge sul diritto allo studio, nella convinzione che i disturbi dell'apprendimento non siano solo individuali, ma appartengano alla scuola nel suo complesso. Questo metodo è innovativo ma è scientificamente validato e ha consentito evidentemente innanzitutto la diagnosi precoce dei disturbi di apprendimento. Questo è un punto fondamentale perché la diagnosi precoce è essenziale per l'esito positivo degli interventi didattici e psicopedagogici che vanno a, non dico risolvere completamente, ma a limitare sicuramente i problemi che derivano da questa tipologia di disturbi. Sono disturbi molto diffusi, non facilmente individuabili, che creano nei bambini una forte inclinatura nell'autostima. creano nelle famiglie disorientamento perché non sono in grado di riconoscere il problema del bambino ma sanno che c'è un problema. A volte le famiglie negano l'esistenza del problema, soprattutto quello di, diciamo, il ceto sociale e culturale più elevato e tutto ricade naturalmente sulla scuola. La scuola deve essere meglio attrezzata in termini di figure professionali e, diciamo, meglio supportata proprio nella interazione con le famiglie. Deve essere anche un po' meno, forse, delegante per quello che riguarda i compiti a casa e surplus di lavoro da fare, perché non dobbiamo dimenticarlo, è la scuola. La scuola è l'istituzione educativa preposta all'istruzione del cittadino e questo è un compito che può richiedere la collaborazione ma non può richiedere la supplenza da parte delle famiglie. La finanza è stata premiata e oggi è veramente... Un dato, diciamo, nazionale che però non può non rincuorare anche la nostra regione, perché l'estate è cominciata, la stagione turistica è in pieno corso, il dato poi è estremamente autorevole e dunque credibile, perché parliamo del centro studi di CNA che raramente sbaglia. Saranno 24 milioni e mezzo, secondo questo studio, i turisti, 24 milioni e mezzo i milioni di turisti stranieri in arrivo in Italia quest'estate, contro i 23 del 2017, per un totale di 104 milioni e mezzo di presenze. La spesa del turismo internazionale nel nostro paese salirà da 12 miliardi e 700 milioni di un anno fa a 14 miliardi quest'estate, con un incremento superiore al 10%. In media dovrebbero crescere del 3% le presenze turistiche internazionali, con una punta del più 4,3% nelle città d'arte, del 3,5% presso le mete enogastronomiche, del 2,8% nelle località marine. Perché è una buona notizia per la Calabria, perché ovviamente l'ambizione e la speranza al tempo stesso della regione, che ha ricordato presentando per esempio gli interventi per quanto riguarda i piccoli borghi, i dati dell'anno scorso, che si spera naturalmente di bissare, e che questa una fetta consistente magari anche di questo aumento di flusso turistico possa arrivare nella nostra regione. Certo, se le città d'arte recitano sempre la parte del leone, noi abbiamo buone speranze con quel 3,5% d'aumento nelle mete enogastronomiche, la Calabria è sicuramente fra queste, e di quel 2,8% in più che dovrebbe aspettare alle mete turistiche marine. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro buon sabato, ma vi lascio in ottima compagnia, vi lascio in compagnia di Francesca Rettondini e del meglio del viaggio di Francesca, il viaggio di Francesca weekend per riepirogare i punti, le località, i luoghi e anche le eccellenze che Francesca ha visitato questa settimana, da Cutro a Palizia ad Altomonte. E grazie ancora per averci seguito. Grazie a tutti.